Nonostante i pochi fondi a disposizione e le difficoltà economiche dovute ai tagli statali, Campo di Pietra punta anche per l'estate 2013 su Jazz in Campo. La manifestazione di Pietra punta alla nona edizione, quattro serate con gruppi locali e artisti nazionali e internazionali. Si parte il 19 luglio alle 21 con una rock blues band molisana, i Mushma, una curiosità. Voce e chitarra sono affidate al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Federico alle 22.30 spazio al blues, soul, funky e pop dei Blue Velvet. La prima parte della serata del 20 luglio è tutta dedicata allo swing e al jazz dell'Amada Trio e dell'eclettica compositrice vocalist Valentina Abruzzese. Luglio, nuova band molisana, i Jamuz, la più votata sul web al Conard Jazz, grazie al quale si è conquistata quest'anno uno spazio sul palco dell'Umbria Jazz. Omaggio al grande Louis Armstrong lunedì 22 luglio con il progetto Louis Mr. Jazz, Voce e Tromba sono affidate a Roberto Di Carlo. Poi tocca agli artisti nazionali e internazionali di Jazz in Campo. Il 22 è stato il palco, il quartetto vocale Farahual, con un mix di musiche mediterranee e popolari, accompagnate dai ritmi di basso, batterie e percussioni. Il 21 alle 10 di sera sarà la volta del quartetto del percussionista Paolo Larosa, con un mix di musiche latine, ma anche con riferimento alla classica e alla fusion. Sul palco anche il polistrumentista Nicola Stilo, musicista italiano tra i più apprezzati, formidabile, improvvisatore e interprete di musica brasiliana. Per la chiusura di Jazz in Campo, la direzione artistica, che anche quest'anno fa capo a giovanino Gian Giacomo, si è affidata allo storico gruppo degli Spyrogyra, fondato nel 1974 da Jay Berkestein. Ritmo in blues, musica caraibica, pop e jazz, quello che offrono questi cinque musicisti da quasi 40 anni sulla scena internazionale. Sono stati confermati anche quest'anno gli incontri culturali con il critico musicale Vincenzo Martorella il 21 e il 22 luglio, ma a Jazz in Campo ci sarà anche spazio per jam session, mostre e denogastronomia. Con tante difficoltà siamo arrivati alla non edizione, davvero una bella edizione con il budget a disposizione e noi crediamo ancora una volta di aver reso un servizio a questa terra, a questo Molise, che credo abbia bisogno di manifestazioni del genere per poter crescere. Noi ci abbiamo creduto in questi anni, ci crediamo e speriamo che Jazz in Campo e la Regione Molise possano avere un futuro migliore e diverso.